Ciao, sono Nicoletta Rotaru, faccio parte del movimento civico Cambiabano. La città deve essere un luogo da vivere, i suoi spazi, le sue strade devono tornare ad essere vissuti dai cittadini, soprattutto dai più piccoli. Pensava al bene comune dei suoi concittadini e alla sicurezza per i bambini. Ecco la Nicoletta Rotaru nel 2017, quando si era candidata a consigliera comunale ad Abano con la lista civica Cambiabano. In questo video Nicoletta spiega il suo impegno. Tuttavia, in particolare negli ultimi anni, anche la nostra città è diventata un posto dove non è sempre facile muoversi in sicurezza. Accanto a lei Michele Di Bari, l'allora candidato sindaco che in queste ore ha preso la notizia con un'enorme tristezza e amarezza. Da uomo, da cittadino, da professore di diritto costituzionale non posso non pensare che facciamo ancora troppo poco per contrastare questo fenomeno che è prima di tutto culturale. Spero che il sogno di una società dove nessuna donna debba più avere paura di un uomo diventi presto realtà, ci ha scritto Di Bari ricordando il percorso partecipato di Nicoletta. Il quartiere di Monte Ortone dove viveva la donna uccisa dall'ex compagno Eric Zorzi è incredulo. Io avevo solo sentito da amici e parenti qui che era successa questa cosa di questa signora che appunto aveva avuto dei problemi, ma altro non lo so. Non sapeva se c'erano litigi con la moglie? No, mai sentito. Mi sono restato qui perché era una brava ragazza, conoscevo anche io. Non si aspettava che Eric potesse uccidere la moglie? Per me è un bravo ragazza, mi veniva stessa a moto e è morta. Non le aveva mai detto se aveva problemi con la moglie? Mai. Sono in pochi a voler parlare, due persone risalvate, qualche saluto di cortesia, anche se le sirene dell'ambulanza e dei carabinieri quella notte del 2 agosto di un anno fa non erano passate inosservate. Un signore non lo conosco, so che ha avuto dei problemi e c'era stato un po' di movimento una sera qui, delle urla e altro, ma altro non ho sentito. Nessuno però immaginava questo epilogo sconvolgente. Le tensioni e la gelosia morbosa dell'uomo però erano note ai familiari della coppia. Lei voleva andarsene di casa. L'intera comunità di Abano Terme è sotto shock. Il pensiero primo va ai familiari, naturalmente, della povera donna e naturalmente l'attivazione di tutti quei servizi sociali di aiuto e di accompagnamento che abbiamo prontamente attivato. Nicoletta Rotaru, l'ennesima donna, vittima della violenza maschile. Amaggia Vigonza, già da Zanola, era stata uccisa dal compagno che l'aveva gettata dal cavalcavia vicino a casa dopo averla stordita con i farmaci per inscenare, anche in questo caso, un suicidio. Prima era stata uccisa a bovolenta Sara Burattin, l'ex compagno si era poi gettato nel bacchiglione. Vanessa Ballan, ariese, uccisa da un uomo con cui aveva avuto una relazione e poi il caso più noto, quello di Giulia Cecchettin, la studentessa uccisa dal suo ex fidanzato e compagno di università.